Allora, rimaniamo un po' in tema canzonone, quelle che sono definite le canzoni un po', come possiamo dire, un po' proibitive, se vogliamo chiamarle così, ecco. Questo è un pezzo a cui io sono molto regata, perché è molto vicino comunque al mio genere, un po' internazionale, che non ho potuto fare molte volte all'interno della scuola, perché era il già cavallo di battaglia di un altro cantante. L'ho fatto l'ultima sera del serale, ve lo faccio ascoltare, è una canzone di Beyoncé, Listen. Ciao. Questo è proprio? Sì 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 Now That my dreams is to be ours We will never be But she's From too a word Is to you Oh, che si è morto Issa Issa I am a love And a cross for love I'm not a call In my own love And I'm trying to try The self's on my mind You should have my own Now Now I'm down believing In you You don't know how to feed me I'm more than what You made of me I'm far the most You gave to me And now I've gotta find my own I don't know where I belong But I've been playing on If you don't If you won't 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 A joy If you're ensemerely If you haven't But I'll Leave inside If you don't If you're If you're In the If you don't If you're If you don't E' un po' maggiore che riesce a vivere E' un po' maggiore E' un po' maggiore bravo Ale grazie mi prendo come un complimento grazie oddio mi sono emozionata scusate grazie non ci si aspetta mai per noi che comunque siamo giovani usciamo da questa esperienza